amici stiamo a piazza san marco guardate quando sono belle visto quando sono belle sono quelle belle allora guardate qua guardate che confusione guardate che confusione ci sono ecco 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 Non capire io metto un po' quello a dire, non esiste, no? Stancio già, no? No, ma sai quando c'è il comitato? Sì, guardate che splendore! Guardate che splendore! Eccoci! Qua abbiamo i poteri, il potere della forza, benvenuti a Veneto! Qua invece abbiamo una carnavola, la maschera, perci la maschera! Invece qua, guardate che splendore! Invece qua? Beh... Beh, invece qua! ma te la mamma anandava radati fabolo semascere ragazzi l'abbiamo il perro vediamo se c'è qualche altra maschera interessante e la facciamo vedere eccoli qua qua ci sono altre maschere interessante vedete eccola qua qua abbiamo altre maschere ma non ti scherzi basta di poter qua invece abbiamo si mattelle ecco qua qua dove si va abbiamo la mia sposa vedete grazie ecco 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 bello successo, passando i tarandelli, viviamo, intrighiamo, intrighiamo a Zambu, che sono a Zambu. 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 A Zambu.